musica 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 ciao a tutti i ragazzi ciao a tutti i ragazzi netherform ok ma con 8 secondi vaffanculo ok ok usciallati spero vi sia piaciuta per centi 3 minuti smash non si sa con scusate non me nemmeno marco vuole sempre su ma fa il culo povero piccolino vabbè cazzo me ne tiene a me di morire vabbè oh ma che cazzo vuoi? ma ti ho chiamato? ti ho invitato? oh ma che cazzo? oh ma ce li vedono tutti con me? oh e che palle basta solo perchè sono passato in finale ma basta qualcuno la c'è una mina di proximità ma fa il culo però no non sono stato io ah no no io lo devo ruttare ecco c'è marco da lei c'è marco c'è marco oh ricchione eh fa la culo a mamma no che cazzo è? buchi nella terra? buchi nella terra eh ma non è giusto eh ma non è giusto perché chi mette i buchi? ciao marco troppo comodi anche teee questa la vinco sono sicuro no non vinci un cazzo ti rotto anche lo spadino ah ah sam cadere nella mia trappola e anche mark che coglioni hai due teste di minchia proprio no io mi sono liberato due teste di minchia si io ero io si io ero io 183 figuri c'è tanta voglia di c'è marco no non ti conviene aver voglia di marco è una brutta ehi c'è sto stronto mi sto seguendo solo perchè ho un casino di danno ok mi sono suicidato fantastico bene ok sono morto ma che non è buono eh ma dai che cazzo è sta cosa ci spawno e mi spawno il creeper eh ragazzi tutti contro il ventilatorizzo sono morto ho perso tutte le vite se io spawno e vengono spawnchillato da un creeper e muoio pure da spettatore sto più venendo ventilator X nel qua a giocare ultimamente a smash ma andate a cagare fottetemi non lo vedo non lo vedo più giocare tanto a smash andate a fare in culo bastardi ma il mio creeper non gli voleva bene però vabbè oh ma mark vai a cagare vai a cagare giuro che prossimo episodio ti in culo proprio prima me ne fotte me ne fotte niente di Sam ma ammazzo te ti faccio morire ti faccio posteriore andiamo qui intanto meglio se commento la partita sto stronzo deve morire vediamo questo super combattimento a 3 ma porco ma porco no mark vediamo serve che si salva all'ultimo no io non sono morto quello è bello è morto l'altro tipo è morto mi sa eh l'altro tipo è morto e viene ucciso l'altro tipo rimanete in no se ne mette ancora in 3 io sono troppo forte oh no oh no vediamo Sam in vantaggio Sam in vantaggio con 2 vite che sta per essere buttato però giù e non ce la fa e Sam muore e sono tutti alla pari quindi adesso se adesso se la giocano se la giocano se la giocano Mark Sam e il tipo marocchino non ho niente con i marocchini ok vediamo Mark che si avvicina a Sam molto minaccioso deciso a combattere vediamo che si tirano delle mazzate e mi fanno partire in aria sto per morire io stesso ma si salva all'ultimo mi salvo all'ultimo vediamo vediamo l'altro giocatore che è intento a giocare a pescare mi piace pescare alla pesca quella di beneficenza tipo pesca con i fagioni vediamo un combattimento all'ultimo sangue tra Mark e Sam chi avrà la meglio sembra che Mark stia avendola meglio sembra che Mark stia avendola meglio ma Sam non demorde non demorde c'è questa combattimento all'ultimo sangue usa il jetpack c'è il jetpack il nostro ragazzo il nostro arricchione che ci ha fatto volare via con un fottuto creeper di merda il cucciolo vediamo Sam che usa l'arma usa il fiore l'arma più forte del gioco però non riesce a utilizzarla bene perchè crepa ah e sono rimasti i due ragazzi con l'altro tipo si è succidato quindi sono rimasti l'ultimo sangue chi vincerà si accettano scommesse aprite le scommesse sono aperte le scommesse chi vince va le va chi vince e basta allora lui c'è il jetpack chi c'è la sutta scrivete nei commenti chi vince senza guardare il video basta non ha senso fate le vostre scommesse fate le vostre scommesse fate il vostro gioco c'è il jetpack vediamo Mark con il jetpack che si salva qua potrebbe morire Sam potrebbe vedersela molto brutta però non demorde e qui mi sa che e qui mi sa che perde no è ancora in gioco attenzione perché Mark è ancora in gioco sono sul lastrico del del sul lastrico sei sul lastrico problemi sto morendo cos'è vediamo Mark che si accinge a scappare combattimento all'ultimo sangue attenzione attenzione qua Mark rischia Mark rischia non so neanche dove sia io eh dove cazzo è Mark? Sam guidami tu ah cazzo mi sono suicidato bello iiiiiiii iiiiiiiiiii vediamo qua il combattimento il combattimento Sam non vuole lasciare la vittoria a modo i늬そう farlo morirlo mi sa che ci sta riuscendo e vince Sam ragazzi adesso scommetto 100 euro che tutti quanti avranno scritto che vince Sam nei commenti sì ma e vabbè io peccato che non c'era un premio Mi spiace C'era un premio di una survival con te Di 0 secondi e mezzo E quindi Per questo episodio di Smash è tutto Ci vediamo al prossimo episodio di Smash Ciao ragazze Mark Aspetta questa fine vi lo devo dire You are gonna die Avrò la mia vendetta E allora ti dico una cosa Il prossimo episodio non lo faccio io Va bene io ti vengo a prendere a casa Io ti troverò e ti ucciderò Ok boss Ok ciao ciao